Sono un giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione di nuovi media, con me c'è Luca Locatelli, fotografo che ci racconterà una serie di storie. Di che cosa parliamo oggi e che cosa succede adesso? Vi racconto un attimo prima come strutturiamo la nostra presenza qui così ci seguite meglio e siamo più chiari. Io faccio una breve introduzione, dirà qualche cosa anche Luca, poi vi mostreremo un video che non è quello che sta girando dietro di noi, che è il video del loop del festival e mostreremo un video di 4 minuti che ha realizzato Luca che fa da setting per tutto quello di cui discuteremo dopo. Dopodiché io mi siedo accanto a lui e lo intervisto, lo intervisto in quella che è una chiacchierata alla quale se volete potete anche partecipare, posso alzarmi e venire da voi con il microfono fate le vostre domande, è una cosa anzi che vi chiedo perché sarebbe bello. Affronteremo l'argomento che avete letto sulla presentazione, quindi sul programma è quello di fotografare il futuro. Io come giornalista mi occupo di tecnologia e di trasformazione, come la tecnologia sta cambiando il mondo e noi che ci siamo dentro, forse anche nell'ordine opposto. Però la domanda è quanti di noi poi alla fine oltre a vivere o a subire questo cambiamento sono andati a vederlo dal vivo, a toccarlo con le mani o comunque a documentarlo perché diventasse chiaro con un linguaggio espressivo immediato o forte come quello delle immagini o quello del video. Luca l'ha fatto e la nostra discussione si articolerà su tre aspetti in particolare. Il primo sarà quello che riguarda il cambiamento energetico nella Germania moderna che sta trasformando tutta la maniera che ha di produrre energia, passando dal nucleare che sta abbandonando per andare verso le rinnovabili, corretto? La seconda invece riguarda come si produrrà il cibo del futuro e scoprirete che chi sta facendo scuola in questo è una nazione europea che non vi aspettereste e poi se c'è ancora un po' di tempo parleremo anche di città del futuro. Questo è quello che succede adesso, quindi prima di andare oltre e presentarvi questo video di quattro minuti, molto forte, molto bello, che dà un po' il setting di tutto quello che vedremo dopo, lascio a Luca l'opportunità di dire cosa andiamo a vedere e di dire anche due parole, due parole che si è scritto e lui voleva essere molto chiaro in questo, non voleva perdere un colpo. Tanto grazie, è bellissimo vedere un sacco di studenti qua perché è proprio bello poter parlare a voi e immaginarsi anche un modo di fare storytelling diverso dal solito, perché la tecnologia nello storytelling non si vede molto, invece appunto è trasversale su tutti i temi che ci riguardano. Quindi io ho scritto due righe di introduzione al video, preferisco leggervele per avere chiarezza proprio nel significato. Allora, praticamente uno dei sintomi più caratteristici del tempo in cui viviamo è proprio il senso di incertezza e negatività verso il futuro, percepito più che altro come qualcosa che non viene più promesso a voi, alle nuove generazioni ed è totalmente incerto. Io personalmente sono cresciuto in un'epoca, negli anni 80 e così via, dove il futuro veniva visto come pieno di sogni da raggiungere, obiettivi da conquistare, un'idea che si è progressivamente vanificata come risultato di molteplici fattori. Le politiche instabili, prima di tutto, le guerre, l'impatto che il terrorismo sta avendo negli ultimi vent'anni e soprattutto la grande crisi ecologica che il pianeta sta affrontando, dal climate change, che se ne parla sempre di più, alla fame nel mondo, eccetera, eccetera. Queste cose ci stanno un po' intrappolando in un presente fatto di ansia e di pessimismo. La motivazione è che stiamo vivendo appieno un'epoca già annunciata, un'epoca geologica che è chiamata antropocene, che è l'era dell'uomo nella quale le nostre attività hanno avuto un impatto così diretto sul precario equilibrio del nostro pianeta da giocare un ruolo fondamentale e dove il doppio ruolo a favore o sfavore è stato giocato soprattutto dal progresso tecnologico. Cioè la tecnologia è stata un acceleratore nell'epoca antropocenica che ha creato e accelerato le conseguenze che noi abbiamo su questo precario equilibrio del pianeta. E quindi io praticamente sto analizzando questo, cioè quello che è questo impatto. Allora adesso io ho preparato un video, prima che tu vada avanti col video e che lo spieghi volevo aggiungere una cosa che non ho detto subito. Questo evento è stato organizzato in collaborazione con Fujifilm perché sia Luca sia domani per l'evento che ci sarà alla stessa ora, anzi no, un'ora prima sempre qui a Festival del giornalismo con Matteo Bastianelli abbiamo pensato di portare qui dei fotografi che siano in grado di raccontarci come sta cambiando il mondo intorno a noi. In questo caso con questa analisi, questo focus, tra l'altro anche molto raro, se vogliamo, non scontato sulla tecnologia. E domani invece più virato verso l'umanità e l'umano. Si parla di reportage, si parla di luoghi di guerra, ma dove la guerra per esempio c'è stata, non c'è più. Però che segna ha lasciato sulle persone, non tanto sui palazzi o sulle costruzioni o sulle società, ma sulle coscienze di chi è rimasto. Quindi siamo qui per raccontare, abilitati da Fujifilm, come la fotografia sia, e i filmati, quindi il video, siano strumenti di questo tempo per raccontare cambiamenti che sono talmente veloci che non si fa in tempo a scriverli. A proposito di questo, in quattro minuti tu mostri tantissime cose, no? Sì, sì, questi sono praticamente le prime, veramente, consideratelo un cantiere aperto, perché dopo centinaia e centinaia di giorni di lavoro sul campo, su questi temi, sto cominciando realmente a immaginarmi un corpo lavoro unito, proprio per esigenza di racconto, e quindi ho cominciato a mettere insieme un po' di foto, un po' di video, unito da una colonna sonora. Ma è in totale evoluzione, insomma, il progetto ha un altro paio d'anni almeno, e poi magari non diventerà mai un progetto finito, perché in realtà, proprio parlando di tecnologia, forse è più giusto considerarlo un'installazione, un blog, piuttosto che un libro, insomma. Quante cose si vedono? Cioè, quante cose diverse si vedono? Anche per capire quello che si troveranno davanti agli occhi. Sì, allora, si trovano tantissimi lavori che ho fatto, soprattutto diciamo che il produttore centrale di questa avventura, che va avanti da più di tre anni, National Geographic, e quindi grazie agli editori di Washington, che credono in questo mondo dell'understanding, fondamentalmente, mi danno moltissimo spazio nel generare... Lavoriamo proprio insieme, come una famiglia, e abbiamo scattato, secondo me, oltre 300 giorni, non lo so, 60 giorni in Germania, 60 giorni in Olanda, 20 a Dubai, 20 a Singapore, poi con New York Times abbiamo fatto tutto il lavoro sulle cave, quindi un altro 20... Cioè, non lo so neanch'io, bene o male. Dico sinceramente che ho voglia anch'io di mettere un po' tutto insieme, e di cominciare a scriverci sopra delle cose, a fare questi interventi per parlarne, e aprire un dibattito, no? Perché poi è quello, quello che veramente mi interessa, no? E insomma, quindi... Stiamo per far partire il video, proprio per parole chiave, che cosa vedremo? Vedremo, cioè, per me l'obiettivo fondamentale, proprio più sincero in assoluto, è quello di slegarsi completamente da dove siamo e perché siamo lì, a livello di storytelling fotografico, ok? Ma creare proprio un senso di, quasi di disorientamento, no? Quasi un po' fastidioso, no? Che però si capisca che è reale, no? Che non è un render fondamentalmente. Ecco perché se è reticente a spiegare cosa vediamo, allora facciamolo. Esatto, preferisco parlarne dopo. Va bene, va bene, va bene. Allora, vediamo se parte tutto. Qui è partito, sì. Musica. Musica. Esatto. Musica. 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 Welcome, my son Welcome to Machine Where have you been? It's all right, we know where you've been You've been in the pipeline, filling your time Provided with toys, scouting for more You bought a guitar to punish your mom You didn't like school And you know, you know, but it's blue So welcome to Machine And you know, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.